Mixer Planet incontra Mirko Maurello, bar manager al Deloge di Napoli. Mirko, che cosa caratterizza l'identità di Deloge? Eleganza, questo è l'aggettivo giusto e soprattutto la coppola del cliente. Parliamo di tendenze. Tendenze Napoli, Summer 2022. Assistiamo nei paesi anglosassoni a un ritorno dell'Esses More. Personalmente l'importante è che sia buono, quindi ci possono essere dai tre ai cinque ingredienti. Un ingrediente importante è che il cliente quando lo assaggio dico ok, questo è il mio cocktail. Prezzo del cocktail, come stabilirlo? Dipende tanto dalla struttura dove uno lavora, dalla ricerca che c'è, dalla ricerca dell'ingrediente, dalle ore di lavoro ovviamente e soprattutto anche per il luogo in cui presentiamo e comunque coccoliamo il nostro cliente. Il prezzo contribuisce a selezionare la clientela? Sì, purtroppo. Twist on Classic, consigli per un perfetto Twist on Classic? Allora, prendere l'ingrediente, guardarlo e capire quale potrebbe essere l'elemento che potrebbe più associarsi e sposarlo meglio e farlo risaltare ovviamente dipende sempre dal risultato che uno vuole ottenere. Ciao amici di Instagram, da... Ciao, da Mirko. Mirko? Maurello. Riccardo a tutti. Alla prossima intervista. Cheers! Ciao! Ciao! Ciao!